Ciao, continuiamo il tutorial. Facciamo l'unghia. Passiamo il pennello. Allora, Inflate, Stroke, lasse il mouse attivo, teniamo per un tutto il tasto Alt, 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 Alt. Tagliamo indietro, non mi piace, eh? Tagliamo indietro, indietro, indietro. Allora, indietro, ok, aumentiamo un po' il pennello, teniamo per un po' il tasto Alt, 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 Alt. Grazie a tutti. 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 Teniamo per poter tosto alto. Ok. 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 Temo dinamica 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 Passiamo un po' a pannello e usciamo. Inflate, premiamo sempre Alt. Passiamo un po' a pannello. Passiamo un po' a pannello, premiamo il tasto CTRL e andiamo a mascherare. Ok. Ora. Masking, inverse, bull mask, deformation, polish, uno, invio. Ok. Ok. Tenenllo move. Ok. 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 Passiamo un po' a pannello. Inflate, premiamo Alt. Ok. 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 CTRL più SHIFT più A. Ok. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, ok, ovviamente così andremo a fare tutte le unghie. Ok, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.